Benefici di bere acqua e miele Benefici di bere acqua e miele È un prodotto naturale al 100% e le sue proprietà sono state utilizzate sin dall'antichità per beneficiare l'uomo. Come se non bastasse, è una fonte importante di enzimi, composti antiossidanti e zuccheri naturali. Il miele contiene sostanze antisettiche, antinfiammatorie e lassative che permettono di prevenire e combattere vari disturbi che compromettono la salute e, grazie al suo valore nutrizionale, è uno degli ingredienti più utilizzati nella medicina alternativa e nella cosmesi naturale. . Molti ancora non sanno che i suoi effetti possono essere potenziati se unito con acqua tiepida e, proprio per questo motivo, è un rimedio tradizionale inserito nelle diete da milioni di persone grazie ai molteplici benefici che fornisce al corpo. . In questo articolo vi offriremo maggiori dettagli per invogliarvi a bere acqua e miele tutti i giorni. Benefici di acqua e miele. Previene le infezioni urinarie e gli effetti diuretici ed antibatterici dell'acqua tiepida con il miele puliscono le vie urinarie riducendo il rischio di infezioni come la cistite. . Grazie alle sue vitamine e minerali, svolge un ruolo importante nell'aumento degli anticorpi evitando gli attacchi dei virus. Migliora la digestione e gli enzimi contenuti nel miele favoriscono le funzioni epatiche e contribuiscono a favorire la digestione degli alimenti. . Assumere miele, infatti, aiuta a proteggere la flora intestinale, facilitando l'assorbimento dei nutrienti per trarre il maggior profitto possibile dal cibo. Come se non bastasse, possiede anche un leggero effetto lassativo che regola il movimento intestinale evitando la stitichezza. . Aiuta a perdere peso Milioni di persone hanno deciso di includere acqua e miele nella propria dieta perché hanno riscontrato in essa una valida aiuto per perdere peso. . Il miele contiene zuccheri naturali che forniscono una sana fonte di energia, diminuisce l'ansia e favorisce il consumo energetico. . . Rafforza il sistema immunitario Questa bevanda è ricca di nutrienti che mantengono in salute il sistema immunitario. Contiene enzimi, vitamine e minerali che aumentano la capacità del corpo umano di combattere vari tipi di agenti patogeni dannosi. . L'azione battericida del miele può essere efficace persino contro quei microorganismi che hanno resistito all'azione degli antibiotici convenzionali. . . Ingerire miele biologico riduce la sensibilità al polline e alle altre particelle ambientali che scatenano reazioni nel sistema immunitario. La sua azione spettorante facilita l'espulsione del muco e combatte l'ostruzione delle vie respiratorie. . . È un potente energetico come abbiamo già accennato, il miele e i suoi zuccheri sono una fonte sana di calorie che aumentano il rendimento fisico e mentale. . . Se al posto del caffè berreste questa bevanda, iniziereste a non percepire la sensazione di stanchezza e sonnolenza che di solito si avvertite al mattino. Questo vi aiuterà a reidratare l'organismo, ottimizzando tutte quelle funzioni che si attivano fin dalle prime ore del mattino. . . Combatte la tosse e il mal di gola L'acqua calda con miele è un tonico naturale che lubrifica la gola secca o dolorante a causa dell'eccesso di muco. . La sua azione calmante ed antinfiammatoria favorisce la salute dei polmoni, combattendo la tosse che tende ad irritare la gola. . Se all'acqua calda e miele aggiungete del succo di limone, otterrete una bevanda disintossicante e digestiva. Questo rimedio aiuta la vostra naturale regolarità, favorendo l'eliminazione delle tossine che si accumulano nel sangue, nel fegato e nel colon. . Il limone contiene acido citrico, una sostanza nutritiva che ottimizza le funzioni degli enzimi del miele per migliorare la digestione dei grassi disintossicandovi. Tiene sotto controllo il colesterolo. . Tutti coloro che ingeriscono questa bevanda almeno una volta al giorno hanno la possibilità di diminuire i livelli di colesterolo fino al 10 nelle due ore successive. . Grazie a ciò, a lungo termine, i problemi del sistema circolatorio e le malattie cardiovascolari diminuiranno notevolmente. Come preparare l'acqua tiepida con miele. . L'acqua tiepida e miele può aumentare la sensazione di benessere, sempre se assunta in modo regolare. Sebbene di solito i suoi benefici siano visibili sin dalla prima volta che si beve, la maggior parte di questi può manifestarsi a lungo andare. . Ingredienti. 1 cucchiaino di miele, 7,5 gr, 1 bicchiere d'acqua tiepida 200 ml. Diluite un cucchiaino di miele in un bicchiere d'acqua tiepida e bevetelo a digiuno. Bevete perlomeno 3 volte alla settimana per godere di tutte le proprietà. . Avete visto quanti benefici possiede questo rimedio? Adesso che avete più di un motivo per bere acqua e miele, non dubitate a prepararla in casa tutti i giorni. .